il suo annuncio di ritiro scioccò tutto il mondo del moto mondiale sia per la giovane età 27 anni sia per le frasi che lo accompagnano questa moto gp non l'altro il terzo ce l'hai sotto un attaccato vicino all'altro per questo è uno unico quindi sono due e una raffasca il processo senza provare a segnare il fatto la cronica per l'uomo e anche questo palazzo è un processo che hanno fatto l'investimento della sicurezza quindi adesso c'è un processo di religione di priorità la correzione non giova a nulla chi è umile invece accoglie la correzione bene se correggessi in questo momento francesco di assisi vediamo che si è riuscito a chiudere la melanzo intanto a vedere il barmanuale che lui si spegne proprio vicino all'unica che delimita a forza l'incrocio delle linee un punto numero 19 fin dall'altra da 36 anni in una deputata leggenda a chiudere la calma di giocano non è un problema non è anche un problema si è riuscito a chiudere la necessità diciamo ma non è anche un problema non è il problema non è il problema vedi la cosa che va a dare che però non è il problema non è il problema e non è il problema sai stop ragazzi a tutti Oggi per l'Italia è l'oltre gabbagliare di costanza delle due senza del carattaggio del tennis fuori il doppio femminile vince Rani e Fulmini, il singolare maschile è trattato poi il caso di quella della piscina delle tuffi, anche l'acqua della masca della palla nuota è un belissimo rischio per la salute degli atleti, si tratterebbe di un calo dell'alcalinità dell'acqua provocata dall'alto utilizzo a dedicare le mie sopracciglia Aia, ESO Supreme Diesel, te lo consiglia Francesco, provalo subito nelle stazioni ESO aderenti scopri di più su ESO.com Non so se son pazzo o sono un genio Andiamo Per te vederlo certo Che ogni volta Tanto poi Ti ritroviamo è così sia un istante dopo ti ha riflesso grazie a tutti no, no, non buttarlo, è tipo di un'altra persona teniamo in ufficio, è un quadrato, tanti ragazzi mi cresce per cui un attimo infatti ha scritto Cecilia che ha la tua stessa sensazione per cui del pelo mi cresce purtroppo grazie a tutti 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 grazie a tutti